Buonasera, bentrovati all'ETG Med Sport, c'è anche Abel Hernández, fra i 23 convocati di Beppe Iachini per la trasferta di Pescara, una trasferta quella di Pescara con tutto l'attacco a disposizione, infatti ci sono Belotti, Lafferty, Hernández e Di Bala. L'imbarazzo della scelta per Iachini che ha anche provato Vasquez come trequartista, non è così remota la possibilità di poter addirittura vedere, magari non dall'inizio ma partita in corso, una squadra con una trazione offensiva importante, dunque con un trequartista addirittura le due punte, dunque una vigilia importante per la classifica, anche perché il Pescara arriva rinfrancato dalla cura Serse Cosmi. E allora con Salvatore Geraci abbiamo toccato proprio l'argomento Pescara e come il Palermo e Iachini stanno preparando questa partita dopo le ultime tre vittorie consecutive. C'è poco da dire ad una squadra che ha fatto quello che è riuscito al Palermo di Iachini, numeri assolutamente strepitosi proprio dal record non soltanto delle ultime annate ma addirittura di tutti i tempi. Ma il problema è che questo è un campionato, a parte bisogna mettere la firma sulle prestazioni e Pescara e Siena rappresentano nel giro di quattro giorni due test non importanti, validissimi, insomma per capire a che punto è il Palermo. Un Palermo in costante evoluzione, un Palermo da cui è lecito attendersi tutto. Però è chiaro che gli intrecci sono stuzzicanti, il Pescara che è tornato in quota con Cosmi, Cosmi ex allenatore del Palermo, Iachini contro il Pescara, contro Cosmi, poi arriva il Siena, altro momento di intrecci abbastanza suggestivi per i netti, i giocatori, Vitiello, Terzi, Verre, Bolzò, insomma c'è tanta di quella carne al fuoco con lo stesso Iachini che è un ex per dire che il Palermo ha sicuramente due momenti di stagione altamente importanti. Come ne uscirà fuori le prospettive dobbiamo considerarle per forza positive ma nel momento in cui poi Iachini riuscisse a dimostrare il valore della squadra significherebbe veramente che il Palermo ormai è inarrestabile. Ad aprile la trentesima giornata in Serie B sarà però il Trapani, il Trapani che affronta il Varese fresco di cambio in panchina, è tornato Stefano Sottili, ha parlato però il direttore sportivo del Trapani Daniele Faggiano che vuole tenere tutti con i piedi per terra. Il nostro obiettivo, qua ci prendiamo in giro, tutti dicono no ma la salvezza, è la salvezza, la salvezza. Io fin quando non arrivo alla matematica, la salvezza non sto mai tranquillo perché può succedere di tutto nel calcio. Vedi i risultati che la regina vince fuori casa, a Carpi poi perde in casa, poi il Padova va a vincere a Varese, dopo che il Varese ha cambiato due allenatori, il Carpi ha fatto una squadra, secondo me è una buona squadra, ha cercato al mercato di gennaio di rinforzarsi ma i risultati non sono venuti. Io sono super contento e stracontento della nostra squadra, del nostro andamento e tutto. Dunque esordio bis sulla panchina del Varese per Stefano Sottili, lo farà domani sera al Provinciale contro il Trapani, venderemo cara la pelle, questo è il pensiero del tecnico biancorosso. Bella, contro una squadra che sta viaggiando benissimo, che è una delle note liete delle sorprese di questo campionato. Stanno bruciando le tappe da quando erano in Serie D, questo merito di una società e di uno staff tecnico che sa quello che vuole e riesce ad ottenerlo. Però non voglio andare a Trapani a fare la vittima sacrificale, non voglio che la squadra sia messa sull'altare e essere sacrificata al mio amico Boscaglia. Andremo giù a giocarci la nostra partita, cercare di rendergli pampo e focaccia ogni volta che ce ne sarà la possibilità, perché la necessità è quella di ritornare a fare punti al di là dell'avversario che si vada ad affrontare. Andiamo su trmweb.it nella sezione sport perché andiamo a vedere le notizie che riguardano il Catania con il primo passo per la costruzione del nuovo stadio. Leggiamo nel dettaglio, il presidente Antonino Pulvirenti ha firmato questa mattina, presso uno studio notarile di Catania, l'atto per l'acquisto del terreno sul quale sorgerà il nuovo stadio del Catania. Circa 50 ettari si trova in contrata Iunghetto, periferia ovest della città. La società ha già dato incarico allo studio dell'ingegnere Emanuele Stancanelli di redigere il progetto definitivo da presentare al comune di Catania entro il 31 dicembre del 2014. Questa dunque la data fissata per la presentazione del progetto, nel pieno rispetto ovviamente di quanto previsto dalle leggi e dalle normative sugli stadi. Dunque questa è la nuova frontiera del Catania, come vedete anche sulla pagina dedicata allo sport, non soltanto le parole del tecnico Sottili ma anche la pallavolo con la sigla del Marsala in serie B1 femminile ad un solo punto dalla vetta. Una sigel Marsala che cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. Una squadra, quella di Campisi, che sta marciando a vele spiegate. L'ultima vittoria in casa 3-0 contro la prima donna Bari a 20-12 e 13 i parziali. Tra l'altro un successo che ha consentito alla pallavolo Marsala di portarsi ad un solo punto di distanza in classifica dalla capolista Acragas Agrigento che è stata sconfitta al Taibere Catarzano. Per la sigel sabato visita al fanalino di Coda Potenza dunque con l'obiettivo chiaramente di poter ancora accorciare dall'Agrigento e portare a 5 le vittorie consecutive. Dalla B1 andiamo invece alla B2 femminile con l'Andros Palermo che ha voglia chiaramente di riscatto. Le due sconfitte consecutive sono ormai archiviate. Al 18 sabato al Paladon Bosco arriva il remapping alli con Reggio Calabria. È una partita che ovviamente appare proibitiva sulla carta per le ragazze di Giancarlo Caccamo. C'è comunque sempre invariato il vantaggio di 8 punti sul penultimo posto. Dunque a parte la voglia di riscatto anche la consapevolezza che la salvezza è comunque ad un passo. Bisogna fare ancora i conti con la difficile situazione in infermeria. Nell'ultimo turno a Castelvetrano non c'erano Magherini, Greco e Stancampiano. Per sabato potrebbe recuperare soltanto l'opposto Tania Stancampiano. In forte dubbio invece Livia e Magherini per i problemi alla schiena. Rosalba Greco riduce anche da un piccolo intervento chirurgico. Ne parliamo con Giancarlo Caccamo, tecnico dell'Andros. Ogni vittoria aiuta la classifica, aiuta il morale. Quindi prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è. Anche se siamo messi in maniera buona, in classifica, abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli sconti diretti li abbiamo in casa. Quindi comincia a diventare una classifica più consona a quelle che erano le aspettative all'inizio del campionato. Certo, è una squadra comunque una partita difficile. Non ci tiriamo indietro. Comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa. Quindi perché non provare anche se, ripeto, abbiamo qualche problema fisico da parte di qualcuno. Ma senza nessun timore verso nessuno, verso nessuna squadra, verso nessuna giocatrice andremo in campo e ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro. Vi ricordo che tutte le edizioni delle TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it e non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione, personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti. Aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio. Infoline 091-784-6193. Presenti anche su Facebook. www.ediliziapiva.it 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 Grazie a tutti.